E' bellissimo già pensare alla storia dell'Inter, il regalo me lo sto già facendo con il loro atteggiamento in questo periodo. Mi sembra che questo sia una bella cosa, cioè una squadra che continua a mantenere il carattere e la dignità necessaria. Non so cosa per dire Cagliari. Ma insomma, quando la squadra avversaria fa qualche cosa si cerca sempre di sminuirla. Qui è difficile, insomma, sminuire. Nella lotta a Scudetto farebbe comodo un Milan fuori dalla Champions League? No, questo no, è bene sempre invece avere diversi impegni forse, ma comunque non sto, molto sinceramente non mi sono messo nei panni del Milan, quindi non mi sto dire tutto il rispetto per Palazzi, perché giustamente fa quello che deve fare, ma è ridicolo il fatto che l'Inter, non è la mia persona, deve presentarsi per questa cosa.